Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, settimana numero 1, sfide per la season numero 8. Una sfida in particolare, forse un po' la più rognosa, quella che dice di visitare tre facce sparse nella mappa. Una nel deserto, una nella neve e una nella giungla. La faccia ragazzi nella giungla la state vedendo davanti a me. Eccola qua, sulla parete di questa montagna. Come vedete siamo nel quadrato I3. E una volta che ci saremo avvicinati ci darà sicuramente la missione. Basta semplicemente avvicinarci alla faccia ragazzi. E una volta atterrati, ecco qua, ci dà la missione. Per la faccia numero 2 ragazzi, invece, dobbiamo andare sulla montagna qua del deserto. Insomma, dove c'è la corona di camper che rimane... No, scusatemi, la montagna... Sì, dove c'è la corona di camper. Per la terza ragazzi, invece, si trova nella montagna vicino al bordo dove c'è a Prodo Avventurato. Per la precisione, la montagna che stiamo cercando è proprio, ve lo dico fra un secondo... Quella che si trova esattamente qua. Questa ragazzi è la montagna per la faccia del ghiaccio e vi do la conferma ragazzi. La faccia sulla montagna, invece, quella che vi ho detto prima è esattamente... Vi do subito l'indicazione corretta. Esattamente questa ragazzi. Eccola qua. Questa è la faccia della montagna del deserto. Quindi ragazzi, una volta che voi andrete nei riquadri che vi ho appena fatto vedere, troverete le facce, ci atterrate, fate la missione e ve la potete togliere dai piedi. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto. Le facce sono tutte attaccate alle montagne e sono tutte uguali. Noi ci vediamo presto! Ciao!